DJI Air 2S, l'abbiamo appena tirato fuori dalla scatola e ora dovremo fare la configurazione, l'attivazione, una piccola registrazione su DJI Fly se non l'abbiamo ancora fatto, ma non vi preoccupate vi spiegherò tutto nel dettaglio e in più daremo un piccolo sguardo all'app DJI Fly. Direi di non perdere altro tempo e iniziamo subito. Prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto per non perdere più alcun tipo di episodio droni tecnologia. Ora iniziamo, ma iscrivetevi. Prima di tutto dovremo scaricare sul nostro smartphone l'app DJI Fly. Se avevamo già scaricato l'app in precedenza controllate di avere l'ultima versione aggiornata. Carichiamo il radiocomando, lo smartphone e la batteria del drone. Dopodiché si può procedere, anzi scegliete anche il cavetto corretto per il radiocomando, cavetto che trovate in confezione. Avvitiamo i joystick, li troviamo al di sotto del radiocomando. Se abbiamo già montato le eliche come nel mio caso le smontiamo, accendiamo il radiocomando, inseriamo lo smartphone e apriamo l'app DJI Fly. Batteria carica, prima accensione, come si accende sia il radiocomando sia il drone, tap veloce e poi tap prolungato. Primissima accensione, sono un po' emozionato. Attendiamo qualche istante, Houston abbiamo un problema, il radiocomando non parla con il drone, mi dice connetti il drone. Cerchiamo di stare calmi e di eseguire la procedura di binding. Connetti il drone, selezioniamo il drone DJI Air 2S, spero che funzioni questa procedura. Entriamo, vista fotocamera, andiamo nelle impostazioni, comandi, in fondo, connetti drone. Ok, premiamo sulla batteria a lungo. Collegamento eseguito, sono un uomo felice. Perfetto, funziona. Attiva dispositivo DJI. Ok, ora passiamo all'attivazione. Quindi dobbiamo dare tutti i vari consensi. A consenti. Qui, se non siamo collegati con il nostro account, dovremo o collegare il nostro account se ne abbiamo uno, oppure se non semplicemente registrarci ed è semplicissimo, basterà mettere i nostri dati. Attiva. Si sta riavviando. Attendiamo. Attivazione completata. Ottimo. Finito. Qui ci chiede se vogliamo attivare la DJI Care Fresh. Io nel mio caso non l'attivo, se siete all'inizio magari forse è meglio farla. Anche se dovrebbe abbastanza proteggerci questo APAS 4.0, però se siete all'inizio secondo me conviene farla. Il prezzo per un anno per la DJI Care è di 99€. Ha trovato un aggiornamento firmware. Lo facciamo. Aggiorna. Attendiamo che scarichi il tutto. 70%. Ci siamo quasi. Lui si accende, si spegne. L'importante è non toccare nulla. Attendiamo con pazienza. Firmware installato. Ce l'abbiamo fatta. Spegniamo tutto quanto e riaccendiamo il tutto per volare, mi raccomando. Ma concentriamoci sull'app DJI Fly. Prima di tutto un rapido sguardo al radiocomando, tasto funzione personalizzabile, i joystick. Ora siamo in modalità 2, per cui avremo il throttle, il drone si alzerà, si abbasserà, lo Yaw, il Pitch, quindi si inclinerà avanti e indietro con questo, e il Roll, destra e sinistra. Tasto di accensione e spegnimento. Lo switch per passare dalla modalità Cine, quindi una modalità più lenta, a una modalità normale, alla modalità Sport. Mi raccomando, nella modalità Sport i sensori saranno disattirati. Fate ben attenzione. Modalità Pausa, modalità RTH. Tasto per switchare dalla modalità Foto alla modalità Video. Sul retro troviamo la ghiera per il pitch della gimbal e per attivare e disattivare la registrazione oppure scattare una foto. Questo è quanto concerne il radiocomando. Entriamo a scoprire l'app DJI Fly. Vola! Ecco qui la nostra applicazione. Si vede davvero molto molto bene come trasmissione. Iniziamo da in alto a sinistra, modalità. In base alla modalità in cui ci troviamo, lui ci dirà modalità N, modalità Sport. Come vedete abbiamo i sensori disattivati. Tutti i vari segnali di attenzione. Ad esempio adesso non abbiamo il GPS per cui ci dirà segnali GPS debole perché siamo in casa. Percentuale di batteria, se andremo a cliccare e dovremo essere in volo, ci dirà a quanti minuti ritornerà a casa e così via. Come vedete abbiamo tutte le scritte in italiano, grande plus dell'app DJI Fly. Dopodiché avremo la qualità del segnale tra il drone, e il radiocomando, i sensori anticollisione e i satelliti. C'è proprio lì con c'è nello satellite. Ad esempio adesso ne abbiamo ben sei anche se siamo all'interno. In basso a sinistro troviamo la mappa, se clicchiamo ci dirà tutte le varie coordinate del drone e così via, con tutta una serie di indicazioni sui valori, altitudine, distanza, velocità verticale, velocità di discesa e così via. Archivio, avremo la memoria interna, non ho ancora inserito nessuna micro sd e potremo registrare 10 minuti. Risoluzione 4k a 30 fps e l'esposizione siamo a zero. Da qui potremo mettere in modalità pro, gestire tutto quanto 5.4k, 4k, ma in più potremmo gestire il bilanciamento del bianco, ora è in automatico, lo shutter e l'iso. Bella questa funzione in quanto l'iso potremmo andarlo a selezionare noi, mettere 100, che stia a 100 e lo shutter resta in automatico. Grande bella funzione questa, mi piace, mi piace. Rimettiamo l'iso automatico, ora salerà un po' perché siamo in casa, nemmeno più di tanto, 130? Beh, il sensore da un pollice si fa sentire, si fa sentire. Ritorniamo nella modalità automatica, qui se abbiamo registrato dei file troveremo le clip o le foto, autofocus per mettere a fuoco. Al di sopra troviamo lo zoom, potremo zoomare fino 4x addirittura senza perdita di risoluzione, questo in 4k, perché? Perché sfrutta il sensore 5.4k zoom digitale. La stessa cosa la potremmo fare noi in post produzione se registriamo in 5.4k. Al di sopra troviamo le varie modalità, quindi modalità foto, singolo, smart, A e B, quindi ci farà più foto sottoesposta, esposta correttamente e sovraesposta, poi andremo ad unirle poi su Lightroom per realizzare una foto HDR, lo potremmo fare anche in automatico, se non erro, si con la foto smart, grafica di foto, modalità video, modalità slow motion, 1080 120 fps, ritorniamo in modalità normale, master shots, grande novità, ora non posso attivarle, ma saranno le quick shot più intelligenti, ci farà già un vero e proprio video con più inquadratura, non solo più una singola inquadratura per volta e poi avremo le classiche quick shot che ora purtroppo non si possono attivare perché non è in volo. Anche un rapido sguardo alle varie impostazioni, entriamo in alto destra, in sicurezza, qui possiamo decidere cosa far fare al drone nel caso in cui i sensori rilevino un ostacolo. Se attiviamo bypass lui eviterà l'ostacolo, brake si ferma, off disattiviamo i sensori, lo sconsiglio, lasciamo bypass. Altitudine massima 120 metri, distanza massima, possiamo mettere nessun limite, altitudine dell'RTH in base al posto in cui ci troviamo, se non ci sono ostacoli molto alti allora possiamo anche abbassarla a 60 metri, solitamente io la tengo a 60 metri, è già più che sufficiente per evitare qualsiasi tipo di ostacolo, ma fate bene attenzione a impostarla. Vi ricordo inoltre che se ci troviamo al di sopra di 60 metri lui tornerà all'altezza in cui ci troviamo. Sui sensori potremo calibrare la bussola o l'IMU, la bussola calibratela ogni qualvolta vi spostate di parecchio tra un luogo all'altro oppure se il drone stesso ve lo richiede. Varie informazioni sulla batteria, luce ausiliaria auto, sarebbe la luce posta al di sotto, accesa, questa è fantastica quando si accende, trovo il mio drone, sblocca zone geo, trovo il mio drone, impostazioni di sicurezza avanzate, RTH ok, AirSense lo andremo ad attivare, abilita ora, è molto carino AirSense, magari poi lo vedremo in un video dedicato, comunque se dovesse mai esserci un aereo vicino a noi, magari quegli aerei leggeri, lui ce lo segnala e dapprima ci fa solo un impulso se abbastanza lontano e poi sempre più costante. Io l'ho già verificato col DJI FPV, bella come funziona. Comandi, unità di misura metrico, anzi mettiamo km orari così per vedere la velocità è più semplice, modalità gimbal follow, se abilitiamo la modalità FPV non andrà a stabilizzare il roll, avremo un po' una visuale FPV. Permette di ruotare la fotocamera verso l'alto, io lo andrei ad abilitare perché potremmo realizzare degli shot, delle inquadrature un pochino più diverse dal solito. Cosa ci permette di fare? Ci permette di inclinare oltre lo zero la gimbal verso l'alto. Radio comando, carica telefono, lo andrò ad abilitare, mi caricherà il telefono, batteria del radio comando e questa funzione la troviamo solamente su iPhone. Sugli altri smartphone sarà sempre abilitata quindi il radio comando caricherà sempre lo smartphone. Funzioni stick, modalità 2 ed è la modalità che vi ho spiegato in precedenza ovvero il gas a sinistra. Possiamo personalizzare il tasso funzioni, tocca due volte ricentra la gimbal, tocca una volta luce ausiliaria. Lascierei così poi voi potete impostarla come desiderate. Calibra radio comando, dovete calibrarlo solamente se quando lo accendete inizierà a bippare. Avremo anche un tutorial di volo. Passiamo su fotocamera, qua in base alle modalità ovvero ora siamo in modalità video, se switchiamo in modalità foto, ritorniamo qua come vedete abbiamo la possibilità di scegliere il formato jpeg o jpeg più raw. Io in questo caso sceglierò jpeg più raw. Ritorniamo in modalità video di nuovo e come vedete cambia formato. Io inserisco move perché ho mac, se avete windows lasciate mp4, colore potremo scegliere se impostare dilogm o hlg o normale, codec h265 o h264. vi ricordo se utilizzate dilogm o hlg, allora utilizzerà in automatico h265. Sottotitoli li tolgo, potremo inserire l'isogramma ed eccolo qua, potremo anche spostarlo. Avviso di sovraesposizione ci farà a queste righette qua dove l'immagine sarà bruciata come potete vedere. Lo togliamo, la griglia andiamo a inserirla, io ve lo consiglio, in modo tale da sfruttare la regola dei terzi per rendere le nostre inquadrature più interessanti. E qui potremmo scegliere se utilizzare la micro sd oppure la memoria interna da 8 gigabyte. Potremmo anche formattare la micro sd su formato, tradotto un po' male, vi consiglio vivamente di formattarla la prima volta che la inserite nel drone. Massima cake video, ovvero voi filmate e una registrazione, la registrazione dello schermo verrà salvata sull'app e qui potete scegliere quanto spazio occupare con la cake video. Trasmissione HD o fluida, io ora lascerei HD, poi faremo dei test, doppia banda, lascerei tutto così in automatico. Come vedete lui sta analizzando anche l'area circostante e andrà a inserire la frequenza più corretta. e come ultima schermata informazioni con tutti i dati relativi al nostro DJI Air 2S. Ci manca solo più un'ultima cosa, come inserire le eliche sul drone. E' semplicissimo, come vedete avremo due tipi di elica, l'elica col pallino arancione e una senza pallino arancione. Quella col pallino arancione dovrà essere inserita sul motore con i trattini arancioni. Fate bene attenzione perché queste le eliche si possono inserire anche sui motori sbagliati e se dovessimo sbagliare poi armiamo i motori e il drone si capotta, nel vero senso della parola. vanno montate a X. Questa è completamente nera e andrà sul motore senza segni. Motore nero. Ok, ci siamo. Siamo pronti per volare. Come effettuare il volo? Potremo effettuarlo o cliccando qua e poi premere su decollo fino a quando lui non si alza, oppure stick verso il basso. Vabbè lui adesso ci fa il tutorial su come inserire le eliche. Verifica completata e via. E poi date gas e il drone si alzerà. Direi bene. Configurazione effettuata. Abbiamo solamente avuto un piccolo intoppo iniziale col bind, però meglio perché se qualcuno di voi trova il drone non bindato con radiocomando sa come cavarsela, insomma. Nulla di così complicato. Io però è la prima volta che mi trovo un drone DJI non bindato con il suo radiocomando. Strano. Molto strano. Fatemi sapere se questo video vi è stato utile qua sotto nei commenti. Ci vediamo in un prossimo episodio. E se non mi seguite ancora su Instagram, ci vediamo anche su Instagram per tutte le novità in tempo reale, interagire con voi, con sondaggi e quant'altro. E su Telegram per le migliori offerte di tecnologia e non personalmente selezionate al prossimo video. Ciao! E pronto per volare finalmente!